Maestro. Rabbi, Giovanni ti ha sentito camminare nel suo cuore. Noi tutti ci stavamo preparando per accoglierti. Sei stato battezzato? Sì. Giovanni battezzava con l'acqua e l'hanno ucciso. Ora io battezzerò col fuoco. Ti ha detto questo il Battista? Ho un invito per voi. Ad un festeggiamento? No. Non è un invito a un festeggiamento. Il mio è un invito alla guerra. Questo è il mio cuore. Prendetelo. Dio è dentro di noi. Il demonio è fuori di noi, nel mondo che è intorno a noi. Germeremo di scure e gli taglieremo la cula. Lo affronteremo dovunque egli sia. Tra i malati, i ricchi, perfino nel tempio. Sarò io a guidarvi. Se avete un grece, lasciatelo. Se avete una famiglia, abbandonatelo.